ma ciao allora eccomi qui come avevo detto su instagram e quindi seguitemi intanto come avete passato la domenica? rido perché finalmente ora che sto registrando il video è lunedì voi lo vedete martedì comunque perché devo editarlo ma è una cosa veloce perché il titolo non è affatto un clickbait ma è bensì per chiudere un buco abbiamo tirato giù una parete allora vi spiego facilmente noi siamo soliti io e mio marito fare tutti questi lavori in casa nel fine settimana perché l'unico momento è che abbiamo tempo per fare qualcosa ed è poi col Carlo ci eravamo un po' fermati adesso ricominciamo quindi se volete i video ve li faccio volentieri certo è che ero partita a fare delle clip perché le facevo solo quando mi fermavo un attimo a prendere fiato facevo delle clip e ne mettevo sulle storie di instagram e non ho pensato che non tutti hanno instagram però tutti possono vedere youtube e quindi invece di spiegarvi tutta la storia su instagram ho pensato di fare direttamente un video qui se vi piace allora veniamo a che cosa è successo intanto comunque ho recuperato le storie di instagram così chi non le ha viste le metto qua un po' a random in base a quando parlo allora è partito tutto che io vivo in una casa isolata intorno ci sono campi ok però attaccata c'è una casa e disabitata è una vecchia casa da contadini che però adesso stanno sistemando e quindi fanno i lavori ed è c'è stata un'impresa ed è fanno tanto rumore ed è c'è stato anche quei giorni che vibrava proprio la casa qui quindi neanche tanto simpatico ma comunque il fatto sta che dopo anni 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 se non decenni che questa casa disabitata dentro c'era il mondo cioè topi ghiri altri animali mettono le balle di fieno quindi la sera ci andavano a dormire e dei caprioli davvero c'è di tutto muovendo e facendo rumore sono tutti scappati e hanno cercato di infiarsi in tutti i buchi bene abbiamo iniziato la sera stessa sentire nel solaio nel sottotetto da noi dico beh ci sono sempre stati i topolini quindi vabbè una sera la sera dopo intanto sentire che sembrava la balera davanti che c'erano erano le cici 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 aveva proprio dei rumori forti subito pensavo rilotte che si fosse svegliato mio marito quindi c'è che rumori e quindi ho detto no c'è qualcosa che non va abbiamo iniziato a guardare perché il topolino c'è sempre ma lì vuol dire che è entrato davvero tanto ha premesso mi piacciono gli eroditori sono amica dei eroditori assolutamente non li voglio fare male anzi quando ne era accaduto un giro nel tubo dell'acqua c'è la storia anche lì su instagram e l'abbiamo recuperato quindi lo aiutiamo però non voglio eroditori in casa adesso non esageriamo anche se sono chiusi quindi non verranno mai qui in casa sono proprio nel solaio ma possono andare all'altra parte più in là ci sono tante case disabitate che volendo possono andare tranquillamente e nessuno disturba allora è iniziata a guardare un attimo e abbiamo visto che nella parete esterna c'era un piccolo buco e tenendoci controllato abbiamo visto che la mattina dopo c'era del non era cemento era in tonaco in terra quindi vuol dire che sono entrati da lì e magari hanno cercato anche di tirarne fuori un po per farsi più spazi di caffè questo piccolo buco chiudiamo il buco perché è meglio così non entrano più sono notturni loro entrano a notte lo chiudiamo di giorno lo chiudiamo ci mettiamo una bella cementata così non riesco neanche a grattare e entrare e stiamo a posto ok iniziamo a togliere l'intonaco quello esterno perché la parete ovviamente esterna anzi è proprio quella sopra la porta di ingresso vabbè iniziamo a togliere attimo l'intonaco viene giù viene giù viene giù la serie la casa è vecchia davvero vecchia la nostra e anni anni fa le facevano un po così tanto per fare morale che intanto che stavamo togliendo per l'intonaco rotto per mettere il cemento sopra vediamo che c'è un pezzo di trave ma un pezzo quindi per fare riempimento quando hanno costruito la casa hanno messo un pezzo un bel pezzo di legno dentro così per fare spessore e poi per chiudere non è importante non è niente è proprio un pezzo che col tempo è marcita e poi regola fondamentale il cemento non prende sul legno quindi per forza che si stava anche sgretolando tutto ok quindi non è più solo un buchino da chiudere perché facciamo le cose ben fatte così non ci torniamo più dietro togliamo tutto quel pezzo di legno che oltretutto ma penso che vi metto una foto qui e quindi da quel piccolo bocchino da chiudere si è iniziata a togliere tutto lo strato una bella fetta per riuscire a togliere il legno e pulire in modo che fosse bello stabile per poi riuscire a richiudere fatto sta vogliamo farci le cose facili perché noi le cose facili mai ma proprio mai che ovviamente quella parte da togliere non era lì comoda non è mai comodo però non era lì no a metà giustamente tra una una parte una porta in vetro che è fissata e non si poteva togliere e il tubo dell'enel con la foto comunque sia lo vedete sicuramente meglio c'è una parte poi c'è il tubo dell'enel in mezzo c'è la porta a vetro e poi c'è l'altro pezzo quindi dovevamo anche lavorare intorno non si tolgono la porta a vetro è fissata e aiuto il tubo dell'enel non si toglie anche se ovviamente è isolatissimo e toccandolo succede niente iniziamo con qualche foto qualche video per farvi vedere un attimo poi mi viene in mente adesso che vedi così per ricordarvi un secondo se avete l'account instagram seguitemi ma perché le storie faccio le storie più che altro poi se per caso vi piacciono questi video dove vi racconto che cosa combina abbiamo combinato va bene volentieri però lì è proprio più immediato lo vedete subito tempo diretto lo vedete in notturna anche perché comunque è diventato che era un buco talmente grosso è diventato che ci facciamo il soppalco per le tortore date con le tortore che mangiano sempre da me e mangiano le crocchette del gatto oltretutto non pane o crocchette del gatto sono belle cicciotte d'inverno loro stanno benissimo ci facciamo il soppalchino poi stanno anche bene tranquille non le affittiamo ci facciamo pagare non chiudiamo neanche no al buco alla chiudere anche perché ci siamo accorti che era passante quindi andava ed è da alcune parti scusate così è meglio da alcune parti vedevamo direttamente il come si chiama detto prima il sottotetto quindi vedevamo l'interno quindi bello passante fatta bene 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 ok quindi fatto tutto tolto tutto e pulito tutto in giornata siamo in due io e mio marito e quindi siamo arrivati a sera quindi con le lucine e quelle le frontali con il buio dopo esserci perché sono rossa dopo aver passato il periodo mosche e il periodo zanzare della giornata fortuna che non c'era neanche troppo caldo e comunque sia siamo arrivati a farlo ed è in serata quindi dopo recupera il legno abbiamo tolto recupera per riuscire a riempire per creare un buco davvero grosso cerca dei mattoni di certe misure quindi lui sopra e io sotto a cercare i mattoni le misure cercare i sassi cercare il tutto fortuna che abbiamo una fornitura di mattoni e di sassi che sempre là nell'angolo quindi recuperiamo da lì e mettiamo finalmente fatto un lavoro ben fatto ormai sono una maga sì sì una maga del fare il cemento perché ovviamente si va a mano non abbiamo neanche quelle mescolatori che si attaccano al trappano no a mano quindi abbiamo fatto tre calderini alla fine di cemento e li ho fatti tutti e tre io per con le misure un pochino più precise quello che ha fatto lui subito infatti era troppo acquoso ha dovuto aspettare gli altri fatti perché se ti ho scritto un terzo sono precisa quindi quelli fatti poi mi chiedo in settimana come mai mi fa male la schiena come mai il blocco col collo ma chissà come mai comunque arrivati in notturna perché erano le dieci e mezza che abbiamo finito di chiudere basta voglio sapere perché mi vengono in mente le cose da dirvi mi ha finito di chiudere adesso ovviamente si vede la parte in cemento la parte chiusa dobbiamo ancora mettere un mattone ma quella è la parte contro il muro e non è contro il sasso quindi non possono assolutamente grattare lì quindi loro andranno da un'altra parte sicuramente e se ultimamente che devo dirvi anche un'altra cosa ma ve la dico dopo puoi pitturare l'esterno si pitturerà quello non c'è problema si fa in cinque minuti ma finalmente abbiamo finito come passare una domenica di relax tranquilli per ricaricarci dalla settimana ecco noi facciamo così tranquilli tranquilli è la nostra più o meno normalità quindi di lavoro davvero ne facciamo tanti e non si è mai finito che una casa lo sa non si è mai finito quello che volevo dirvi è che alla sera effettivamente eravamo qua in salotto perché alle 11 noi cenavamo e cosa è tutto una volta finito mi sono lavata ho voluto anche far da cena comunque vabbè una volta poi ce lavavamo e cercavano di entrare e no c'è il sasso adesso non entrate più andate da un'altra parte allora credo comunque sia con le stories più o meno di avervi mostrato tutto avevo detto su instagram che avrei spiegato il giorno dopo perché da un piccolo buco siamo passati a una voragine e invece ho pensato che era toccare una storia lunga e poi nessuno ci crede sicuramente ho fatto un video che facciamo prima se però preferite invece che questi video chiacchiericci che adesso da montare in giornata sarà bello divertente se invece questi video chiacchiericci preferite guardare in tempo reale ci sono le storie su instagram link in descrizione mi seguite lì tranquillamente e poi mi dite anche se preferite su instagram o qui come video dove raccolgo il tutto se sono lavori di più giorni li raccoglierò tutte le clip in più giorni e poi vi farò un video unico non vado a farvene di più anche perché i lavori stanno davvero facendo allora io direi basta comunque non ho preparato la borraccia perché sapevo che avrei parlato e come io spero e vi rifacciamo il discorso spero vi avete avuto un pochino di compagnia spero che come in settembre vi si è cominciato bene se avete cominciato a ricominciare ad andare a lavorare io non ho mai smesso invece tra poco iniziare ad andare a scuola e qui se vi siete andate a scuola dai che è un altro anno comunque rivedete i vostri amici qui c'è qualcosa di positivo anche in questo ed io vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao no ma fammi capire ho parlato per 12 minuti e devo metterci anche nel clip oddio che video viene oh è ancora acceso oltretutto vabbè a posto